Sei una minaccia per la democrazia. È l'accusa che si sono lanciati reciprocamente Joe Biden e Donald Trump in questo fine settimana, mentre alcuni sondaggi segnalano il sorpasso del tycoon sul presidente e alcuni media fanno circolare i primi totonomi di una sua seconda presidenza con personaggi che a qualcuno fanno venire i brividi. Con il rischio di essere azzoppato dagli imbarazzanti processi al figlio Hunter e da un'indagine di impeachment che potrebbe essere votata domani alla Camera, l'inquilino della Casa Bianca cerca di trasformare le elezioni in un referendum, non più sui propri risultati offuscati dall'inflazione e da due guerre in corso, ma su Trump, i suoi problemi giudiziari, la minaccia che rappresenta per le istituzioni. Il commander in chief ha ricordato anche la minaccia del tycoon di usare l'esercito americano nelle strade d'America per dare la caccia ai suoi oppositori politici e la promessa in tv che sarà un dittatore solo nel primo giorno, grazie a Dio. Solo per un giorno ha ironizzato Biden facendosi il segno della croce. Trump gli ha risposto dal galà del club dei giovani repubblicani di New York, non sono una minaccia, salverò la democrazia, la minaccia è il corrotto Joe Biden ha accusato, sostenendo che questa è la loro nuova linea, la bufala dem della minaccia alla democrazia dopo quella del Russiagate.